Dal cilindro del grande rottamatore esce fuori il nome di Mattarella, già ministro con Andreotti, con Goria, con Amato. Tutto cambia perché nulla cambi. Se gli italiani potessero scegliere il loro presidente voterebbero nomi completamente diversi da quelli che stanno girando. È il motivo per il quale Fratelli d'Italia sarà in piazza da oggi, a Piazza del Panteon, per far votare simbolicamente agli italiani il loro presidente, per protestare contro un Parlamento vergognoso che ha bocciato l'elezione diretta del Capo dello Stato.